falla fare falla fare falla fare avvicinalo avvicinalo voglio riprendere a fare avvicinalo 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 ma che è uscita? ma che è uscita l'addendo perciù bella come non c'è la figlia? vedo che ha due canna rozzi bella 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 però 5 kg orca troia girano sti mostri di lottare, di tornare a sorridere per il coraggio di stare insieme di andare sui balconi e risultare come faremo adesso siamo campioni d'Europa avvicinalo la compa capitano alza grazie a tutti grazie a tutti